Mattinata di paura a Corigliano Rossano. Intorno alle 8, tre ragazzi sono stati travolti da un'auto su via Torrelunga davanti al liceo scientifico, area urbana di Corigliano. Un'auto guidata da un quarantenne ha travolto gli studenti. Due sorelle di 15 e 18 anni che frequentano la terza classe e la quinta sono finite prima sul parabrezza e poi scaraventate ad oltre 10 metri. Un terzo ragazzo è riuscito a fare un salto evitando l'auto e rimanendo lievemente ferito ad un piede. Immediati sono arrivati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e data la gravità della situazione è stato allertato l'elisoccorso che ha trasportato la 18enne all'annunziata di Cosenza in quanto le condizioni sono apparse subito più serie. La 15enne è stata trasportata presso l'ospedale di Rossano Lambe. Entrambe le ragazze hanno riportato ferite al capo. Sul caso indagano i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto in molti lamentano la presenza saltuaria della polizia municipale, soprattutto all'ingresso delle scuole che in quella zona conta un'utenza di oltre un migliaio di studenti.